Bandung, Indonesia, un aereo precipita e prende fuoco durante l'air show in occasione del vicentenario della città di Bandung, situata a 120 km a sud-est di Jakarta. Saleh Suderjat, il pilota del velivolo e l'unico a bordo, è stato immediatamente trasportato in ospedale in grevissime condizioni. L'aereo pronto per l'atterraggio era troppo vicino al terreno, questa la causa dell'impatto. Ad assistere all'incidente centinaia di bambini portati in gita scolastica allo show.